Bahrain, circuito di nuova generazione con curvoni veloci e frenati impegnative. Situato in mezzo al deserto, sabbia e sporco rappresentano un fattore di deterioramento aggiuntivo soprattutto in gara. Prima staccata, in 130 metri la monoposto passa da 315 a 65 km orari in 3 secondi. L'elevato grip longitudinale dei pneumatici permette di superare i 5 g di decelerazione. Sequenza di curve 5-6-7, tratto chiave del tracciato, non bisogna arrivare in ritardo di linea ed è necessario rimanere nella traiettoria gommata. L'apporto delle coperture in termini di grip e precisione di guida aiuta il pilota nel mantenimento della traiettoria ottimale. Curve 11-12 in rapida successione a 250 all'ora. La sabbia destabilizza l'appoggio della monoposto. La combinazione grip pneumatico, carico aerodinamico riduce il pattinamento laterale e garantisce l'ottimale angolo d'assetto. Alte temperature e sabbia in pista. Medium e soft sono le opzioni proposte da Pirelli che assicurano il miglior compromesso grip prestazione durata su questa tipologia di tracciato.